Il progetto Belluno è salvo. Governo e Anci sono giunti ad un accordo che permette la prosecuzione di quei lavori di rigenerazione urbana che erano stati bloccati con il congelamento del bando periferie. In sintesi, verrà garantito il pagamento per stati di avanzamento, cosa che consentirà l'avvio delle gare già quest'anno. Il risultato è stato raggiunto non senza una incredibile fatica e attraverso un percorso davvero tortuoso perché alla fine la sostanza è che i comuni devono prestare allo Stato i soldi che lo Stato dovrebbe dare ai comuni e lo dobbiamo fare accendendo dei mutui al posto dello Stato. È una soluzione degna dell'Italia del 2018, però è il massimo risultato a cui si poteva ambire e quindi in questo momento le cose in qualche modo si sbloccheranno. È un peccato anche che non potremmo usare gli avanzi di amministrazione che il governo vanta di aver sbloccato perché dovremmo usarli per anticipare le spese dello stesso governo. Quindi di fatto viene, come possiamo dire, resa inutile la manovra di sblocco degli avanzi di amministrazione ed è un peccato perché con quello si poteva almeno provare a finanziare qualche opera, sempre con grandi difficoltà, ma sarebbe stato sicuramente un risultato positivo. Il sistema, secondo Massaro, carica di burocrazia le amministrazioni e penalizza i comuni più piccoli e con meno liquidità. Per Belluno i progetti attivi sono sette. Un intervento sul piazzale della stazione, la ristrutturazione della scuola Gabelli, il parco del Piave, lavori all'ex caserma Piave a Palazzo Crepadona, la Chiesa dei Gesuiti e altri ancora. Adesso quindi potremo riprendere l'iter risolvendo alcuni problemi amministrativi creati appunto da questa norma inserita nel Decreto Mille Proroghe, ma potremo finalmente inviare i nostri progetti alla stazione appaltante e quindi verranno pubblicati i mandi di gara entro il 31-12 di quest'anno, verranno messi in salvo i soldi del Comune di Belluno per la rigenerazione urbana e quindi attraverso le procedure di gara si può immaginare, ipotizzare, un avvio dei lavori intorno alla primavera del 2019. Grazie a tutti.